No! È permesso? È permesso? Oh, ma si scende! Mi stanno a far pagare il cuccholo? Ma io qua che stai nefaticando, capito? Non mi stanno a pettinare! Sono qua per la deludizia. Andate con il micro. Come di cosa? C'è stato un furto! Sono stato un ventino di un furto! Allora, qua non c'è stata mica furte, capito? Qua siamo tutti tranquilli, tutti d'accordo. Qua tutto va benissimo. C'è stato uno smarrimento. Un passaggio, chiamiamolo come vuole. Allora, che cosa hai perso? Io sono venuto qua perché avevo una gara culinaria. Io? So io? Io sono ancora io, te ne vado! E c'è qua, c'è, potremmo dire che si accederà, no? Sono qua. Continuo più veloce adesso. Mi hanno rubato il cetriolo, quello magico! Il cetriolo? Quello magico, quello mitico, quello grande, piccolo, medio, sulla luna. E il cetriolo? Sì! Ma come può essere? È stato sull'aluna per anni e anni e anni perché doveva partecipare al concorso. Hai capito? Ah, ah, al dressage. Ah, 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 alla tavola ronda dei cavalieri. Hai capito? Doveva metterci a spettare, spettare con la sua bellezza. Spettare con la sua bellezza. E poi? Mi sono alzato! Ho aperto la scatola dove...